Ancora buone notizie dall'ASL Foggia che continua ad assumere personale e ad ampliare le dotazioni organiche dei servizi aziendali con l'uso di tutti gli strumenti che le norme regionali e nazionali mettono a disposizione. Con la deliberazione del commissario straordinario 995 del 30 dicembre scorso l'ASL ha prorogato l'incarico a 58 operatori sanitari tra infermieri, assistenti sanitari e tecnici di radiologia con decorrenza dal 1 gennaio fino al raggiungimento dei 36 mesi, requisito previsto per la stabilizzazione. La proroga consente dunque di salvaguardare, valorizzare e non disperdere le professionalità acquisite dagli operatori che hanno prestato servizio anche durante l'emergenza Covid. Allo stesso tempo permette di assicurare la continuità assistenziale e di evitare l'interruzione di pubblico servizio nelle strutture sanitarie aziendali, soprattutto nei pronto soccorso degli ospedali della Capitanata, nella rete dell'emergenza urgenza 118, nella medicina penitenziaria e nel Dipartimento di Prevenzione. I 58 operatori sanitari si aggiungono ai 197 già ammessi alla procedura di stabilizzazione. Con la deliberazione del commissario straordinario 994 del 30 dicembre invece sono stati ammessi in ruolo, con trasferimento definitivo, 32 operatori sanitari provenienti da altre ASL che già prestavano servizio a tempo determinato nell'ASL Foggia. La norma infatti prevede che le amministrazioni possano ricoprire posti vacanti in organico attraverso il passaggio diretto di dipendenti che appartengono alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento. Per gli infermieri infine la direzione strategica dell'ASL, oltre ad usare le misure citate, ha inserito nel piano dei fabbisogni, appena approvato dalla giunta regionale, altre 142 unità. Ha chiesto dunque all'assessorato alla sanità della regione Puglia di usare le graduatorie vigenti del concorso per infermieri espletato dall'ASL di Bari. Appena arriverà l'autorizzazione regionale, così come prevede la norma, si procederà a coprire i relativi posti vacanti previsti dal piano di fabbisogno triennale del personale. Nella stessa nota, inviata sempre all'assessore palese, la direzione dell'ASL ha chiesto anche l'assunzione di 35 assistenti sociali, 45 fisioterapisti per i quali l'ASL ha completato le procedure concorsuali. E sempre nella stessa richiesta è stata inoltrata dunque l'istanza di autorizzazione all'uso di altre graduatorie disponibili per quando riguarda i dirigenti medici, fisiatri del concorso del Policlinico, riuniti di Foggia, personale amministrativo e professioni sanitarie.